Dal 1982 l'impresa Coedil è specializzata nel settore dell'edilizia stradale e nella realizzazione di capannoni industriali e demolizioni. I nostri punti di forza sono competenza, esperienza del settore e il nostro parco mezzi sempre rinnovato. Tecnici e operatori sono costantemente aggiornati sulle più moderne tipologie di lavoro. Coedil garantisce la massima flessibilità e qualità, tempi certi di consegna e cantieri in massima sicurezza con certificazione BSOH SAS. Contattaci e visita il nostro sito www.coedilesrl.net